Nell'Odi dall'altra parte c'era Pietro Lazzarotto capitano dell'Under 23 che ha chiuso con il bronzo l'avventura di Parede, gli ha mancato un po' di continuità pur essendo una squadra, occhio a faccini intanto la risposta di Català. Troca un ottimo ok e lo sta facendo vedere anche in questa occasione pericolosissimo per Faccini, allora ancora Sandrigo con Till per la conclusione di Micheleto, dall'altra parte Faccini per Naghera, Català ci arriva in qualche modo poi Faccini, palo clamoroso. Cerca di cui Giovanni, chiuso da Giovannetti solo per un momento, Till, la conclusione è respinta alla Grimalte, poi di cui Giovanni ancora Grim, Naghera, Fernandez, 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 la mette in porta, 1-0 Lodi, Filippo e Fernandez al settimo minuto. Dentro Barbieri e Bozzetto, ricordiamo che occhio però dall'altra parte a Till, 1-1 ma assolutamente con un'ora e tanto occhio al 2-0, fulmineo di Lorenzo Giovannetti, Giovanni Sparti all'ora. La deviazione del portoghese che poi rapina palla di cui Giovanni serve Barbieri, tutto solo davanti a Catastil, dall'altra parte di cui Giovanni, di cui Giovanni prova ad alzarla, ma Grimalte un muro. Till prova l'accelerazione, Max Till, la conclusione, Grimalte, di cui Giovanni rischia Antonioni, sull'aggressione alta per Andrisani e cartellino blu. Parte Till, sfida Grimalte, si allarga, prova ad alzarla, Grimalte la tiene lì e poi col bastone, Giovannetti deve tenerla in mezzo a tre, anzi va via con un prodigio e poi prova la conclusione con la respinta di Catalan. Nachera, punta e salta, Michelez, Nachera! Canal 3, 3-0 l'Odi, super gol di Pablo Nacher, cercato e non trovato per poco Fernandez. Poi Barbieri, altro Euro goal, serata solo gol belli, grande fucilata di Nico Barbieri di Grimalte. Sul tiro uno, Fernandez, Nachera Fernandez, Catalan si allunga e nega al portoghese la doppietta e all'Odi, il quinto gol dall'altra parte. Di cui Giovanni invece non sbaglia sulla palla dentro di Michelez, 4-1. Michelez, Michelez, si inventa un gran gol sull'alza e schiaccia. Nachera, conquistata dai giallorossi, Nachera un po' di spazio, prova il diagonale, Catalan riparte Antonioni, palla per Nachera, arriva Fernandez, Catalan. In regolarità secondo il direttore di gara, qua ancora Catalan, su Fernandez, che adesso è solo in area, facin, facin, rasoterra a Catalan. Una scambata alla sera, occhio a Giovannetti, che fa tutto benissimo e segna un grandissimo gol. Giovabisch Parti si è messo in proprio, è partito da metà campo ed è andato a siglare il 5-2. Barbieri prova la conclusione, Catalan a copertendersi e respingere Thiel per Michelez dall'altra parte. Grimalta anche lui, in qualche modo poi la recupera Max Thiel, Michelez, a spazio Michelez. Conclusione respinta, numero 21 del Sandrigo. Giovannetti fa CIN la bordata, Catalan. Pionato a parte, ancora una volta, intanto seguiamo Barbieri che c'entra in pieno il palo.